buongiorno a voi e benvenuti oggi assaggiamo il primo cracker di meditazione ideato per noi da daniele belloni che ringrazio insegnante di yoga e meditazione allo spazio shanti di milano ciao daniele grazie ciao nicoletta buongiorno a tutti allora possiamo partire con questo primo cracker di meditazione intitolato la conta dei dodici molto semplice ma molto efficace parte dal presupposto di una gestione del nostro respiro poiché sappiamo che la gestione del respiro può aiutarci sotto diversi aspetti nella gestione dell'ansia nella gestione diciamo della pressione sanguigna la bassa frequenza cardiaca viene abbassata da una consapevole gestione del respiro poi abbiamo anche un funzionamento polmonare migliore e che si accompagna anche un funzionamento cerebrale innalzato migliore ma non possiamo che guadagnarci daniele assolutamente ecco non può farci che bene ti chiedo solo di descrivere sinteticamente che cos'è un cracker di meditazione perché l'abbiamo voluto chiamare così hai suggerito di chiamarlo così perché credo che ci possa aiutare a inserirlo anche nella giornata e a capirne l'utilità benissimo il cracker di meditazione nasce da da un'idea che tempi estesi per impegnarsi in meditazioni approfondite sono sempre più rari siamo tutti molto indaffarati tutti molto presi dai ritmi di questa vita definita spesso frenetica per non dire di peggio e quindi è essenziale che noi utilizziamo questo strumento fondamentale che è la meditazione che la gestione del respiro fondamentalmente come inizio per come dire inserire più volte nella giornata micro momenti di meditazione che possano sviluppare benefici molto elevati se siamo come dire in grado di ripetere questi piccolissimi brevi momenti di meditazione che ho chiamato cracker perché proprio come se noi avessimo un certo appetito cara nicoletta e non potessimo prepararci un pasto completo e allora magari per placare la fame un cracker è ideale mi piace molto grazie grazie di questa bella idea e grazie per averla regalata alle amiche e agli amici che ascoltano obiettivo salute e direi radio 24 e le con il sole insomma è disposibile naturalmente nei nostri social e sui nostri siti grazie io sono pronta per il primo sgranocchiamento il primo sgranocchiamento prevede che noi in modo molto semplice ma molto significativo perché questa è un po la ragione che unisce tutti i cracker di meditazione noi si continui respiri si continui respiri in modo particolare partendo sempre da una consapevolezza del respiro che si sviluppa come respirazione diaframmatica ne abbiamo parlato più volte nicoletta ma vale la pena ripetersi perché si tratta veramente del tipo di respiro fondamentale che anche i meditatori più accaniti utilizzano nei loro diciamo processi di indagini interiore per il benessere la lucidità mentale e via discorrendo quindi brevemente la meditazione parte da questa posizione che può essere seduta come vedete anche su una seggiola non è necessario stare a gambe incrociate a terra come degli yogi indiani tibetani l'essenziale che noi non si sprofondi nella sedia e si mantenga il più possibile l'allineamento comodo senza forzare del capo del collo e del tronco i piedi sono in appoggio a terra e questo allineamento perché insistiamo tanto perché con l'allineamento comodo ripeto è possibile gestire il respiro in modo più efficace allora espirando la parete addominale può rientrare più facilmente lo possiamo sentire meglio e inspirando può espandersi più facilmente proprio in virtù del nostro buon allineamento quindi che noi si sia su una poltrona su una seggiola su un cuscino da meditazione non importa si può comunque con l'allineamento mantenere una buona funzione respiratoria e quando questa funzione respiratoria è stabilita vale a dire che noi respiriamo in modo consapevole diaframmatico per qualche ciclo diciamo 5 10 respiri in base anche al tempo che abbiamo è essenziale tuttavia che noi lanciamo un messaggio al nostro cervello alla nostra mente un messaggio di ritmo armonia e consapevolezza e questo come abbiamo visto fa una grande grande differenza a livello polmonare cerebrale a livello mentale come gestione dell'ansia dello stress bene noi desideriamo proseguire verso il primo cracker di meditazione quindi la nostra respirazione diaframmatica che si sviluppa in modo naturale spontaneo a questo punto diviene la conta dei respiri come facciamo e presto detto inspiriamo e quando espiriamo contiamo mentalmente uno inspiriamo mentalmente due espiriamo mentalmente si conta tre inspiriamo 4 e espiriamo 5 inspiriamo 6 e espiriamo 7 inspiriamo 8 e espiriamo 9 inspiriamo 10 e espiriamo 11 12, inaspiriamo 12, ora lasciamo andare ogni conta, lasciamo andare anche il respiro come respirasse da sé, non preoccupiamoci più del movimento del centro umbilicale, dentro, fuori, lasciamo che il respiro respiri da sé e che il corpo possa sostare qualche istante così e che la mente possa espandersi un poco a misura in cui può espandersi il nostro sguardo. Attiviamo la visione periferica, qualunque oggetto noi si abbia innanzi nel nostro studio, nella nostra casa, ovunque, possiamo espandere la visione attorno a quell'oggetto, come attivando la periferia della visione, e questo anche molto rilassante. Quando desideriamo tornare a una funzione di attivazione nel mondo esterno, allora terminiamo il nostro esercizio, abbiamo completato lo smangiucchiamento del cracker e siamo pronti per andare avanti con forza, equilibrio e lucidità. Grazie, grazie a Daniele Belloni, scriveteci, provate, sperimentate, scriveteci domande, dubbi, esperienze, come vi siete sentiti, se riuscite a sgranocchiare questi cracker più volte al giorno e che benefici mi trovate. Obiettivo salute, chiocciolaradio24.it. Alla prossima meditazione, al prossimo cracker con Daniele Belloni. Grazie Daniele. Grazie a tutti, al prossimo cracker. Grazie a tutti.